Salve, Silvia Cammarata, sono un farmacista ospedaliero, membro del Comitato Unico per la Ricerca e Formazione SIFO e dirigente presso l'Agenzia Italiana del Farmaco. Di fatto ho colto l'occasione di partecipare in qualità di uditore al primo corso per il Special Engagement perché ho da anni seguito la tematica relativa appunto all'empowerment del paziente fin dai tempi del progetto che è stato portato avanti a livello dell'AMI da Eopati e poi la presentazione da parte di Accademia dei pazienti del progetto e l'ideazione di un eventuale progetto in forma di corso in lingua italiana in occasione di un Open AIFA. Quindi ho ritenuto un'occasione preziosa la partecipazione al corso sia perché dal mio punto di vista è essenziale l'informazione trasparente e solida al paziente ma è altrettanto importante riuscire a percepire anche in maniera proattiva quelle che possono essere delle criticità o comunque dei bisogni informativi dei pazienti in diversi ambiti tra cui anche nell'ambito scientifico, nell'ambito regolatorio. Per cui partecipare assiduamente in modo continuativo alle sedute e alle lezioni mi consente di percepire queste informazioni perché dalle domande, dall'interfaccia con i docenti, dal forum di discussione è possibile ricavare informazioni che poi posso o almeno spero di riutilizzare nell'ambito della mia professione.